Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. La coppia formata da Elodie e Andrea Iannone è stata recentemente fotografata insieme nelle strade di Milano, dissipando così i dubbi su una presunta crisi tra loro. Elodie è una cantante di successo in costante ascesa, notoriamente conosciuta per il suo brano, Andromeda, che l'ha resa celebre dopo la partecipazione a Sanremo 2020. Nel frattempo, Andrea Iannone è un campione delle corse su due ruote, pronto a tornare in pista dopo un periodo di inattività dovuto a un'accusa di doping. La loro relazione è stata al centro dell'attenzione mediatica, nonostante la loro tendenza a mantenere una vita privata riservata. C'era stata speculazione riguardo a una crisi tra i due, soprattutto quando Andrea Iannone non era presente all'evento di lancio dell'album «Red Light» di Elodie, in cui la cantante esprimeva concetti di libertà e divertimento. Tuttavia, la recente apparizione insieme a Milano suggerisce che la loro storia d'amore potrebbe non essere giunta al termine, dissipando così i dubbi sullo stato della loro relazione. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.